Il suo compagno ha pensato tutto, non è stato un reato di impeto, è stato davvero una cosa programmata, l'ha cortellato, l'ha tentato di bruciarla, è una compagna, è una donna della nostra terra, è una donna che è andata a Milano per lavorare, noi siamo qui per tutte le donne che ogni giorno vengono uccise, sono state uccise in questa settimana tre donne, tra cui anche una poliziotta, dal poliziotto che poi si è suicidato, basta, non lo possiamo più sopportare, non lo possiamo più sopportare questa.